Quali rimedi furono utilizzati per prevenire il contagio e tentare di guarire i malati di colera, ricordando che non si aveva nessuna conoscenza della malattia, che quindi era del tutto misteriosa? Prima di elencare alcuni dei rimedi escogitati, è utile descrivere come si manifestava il contagio. L'esordio della malattia si presentava sempre con abbondantissime scariche di diarrea, accompagnate da vomito. Nella descrizione dei medici il paziente era tormentato da una grandissima sete a causa della fortissima disidratazione. All'esame obiettivo si rilevava poi la presenza di una faccia pallida ricoperta da sudore freddo. Gli arti avevano contrazioni convulsive o rigidità simili a quelle del tetano. Il singhiozzo e i conati di vomito erano così violenti che a volte portavano alla lacerazione dei legamenti del diaframma e impedivano l'assunzione di qualsiasi medicina. Date le scarse conoscenze scientifiche, mancava un metodo uniforme di cura della terribile malattia, nell'ambito della quale possiamo distinguere due tipi di interventi terapeutici. I rimedi utilizzati al primo insorgere dei sintomi e quelli previsti a malattia già conclamata. Per la forma colerica più lieve, detta colerina, bastava somministrare un lieve infuso di peccacuana, bevanda e clisteri rinfrescanti e qualche salasso. In presenza di forte vomito e diarrea erano indicate limonate vegetali con gobba e laudano e clisteri di riso con laudano e il riscaldamento esterno del corpo dell'infermo. Per la fase più grave, detta periodo algido, con perdita delle forze vitali, occorreva riattivare la circolazione con sostanze eccitanti, procedendo, in contemporanea, al riscaldamento del corpo con bottiglie d'acqua calda, frizioni con cloruro di calcio o aglio, olio canforato e varie pomate. Nella forma asfittica della malattia si tentò spesso il salasso, purché era noto che molti medici delle Indie e rispettabili medici europei proclamavano essere uno dei rimedi migliori, soprattutto nel periodo algido, quello finale. L'esperienza però dimostrò che se poteva avere qualche effetto benefico nei primordi del male, poiché riusciva a risvegliare qualche reazione, nel periodo più acuto non faceva che peggiorare la situazione. Si può avere un'idea della frequenza con cui venivano praticati i salassi per contrastare il colera da una lettera di accompagnamento del dottor Piana allegata alla tabella statistica dei colerosi curati nella parrocchia di Sant'Antonio di Savena. Nella lettera il dottor Piana descrive dettagliatamente alcuni casi di colera da lui trattati, specificandone i metodi di cura, le sue riflessioni sulla esiologia della malattia e sull'analogia della stessa con altre malattie più conosciute. Azzarda varie ipotesi curative, confermando la sua fedeltà al salasso, da sempre considerato un curativo universale.